Sono contento di questa bella prestazione che ha fatto la mia squadra, purtroppo come sappiamo nella vita ci sono momenti in cui non ti gira nulla bene e non entra questa palla, bisogna rompere l'incantesimo mettendola dentro uno, un episodio e credo che poi ci ritorneranno anche i punti che meritiamo. Oggi credo che su un campo così difficile, contro una squadra ben organizzata da un grande allenatore, abbiamo messo in difficoltà, abbiamo sempre fatto la partita noi, abbiamo avuto il 60% del possesso palla, abbiamo creato tantissime occasioni importanti e sono contento della prestazione. Io credo abbia fatto una bella partita, quando si cambia un giocatore che sta andando bene a volte si può fare qualche danno perché rompere gli equilibri in un momento in cui tu hai il predominio della partita e stai giocando bene, poi l'ho visto un po' stacco, ho provato negli ultimi minuti magari un guizzo di Zuniga, potevo farlo 5 minuti prima, non ci sta, però visto che eravamo molto sbilanciati, l'ho tentato un po' tutte in altre zone del campo, dato che le cose andavano bene, ho aspettato un pochino per non rischiare poi magari di compromettere addirittura, prendere un gol e rovinare anche il pareggio. La Juventus non ha la sfera di cristallo, non lo so, io credo che se il Napoli gioca come oggi metterà in difficoltà anche la Juventus e se entra in campo come è entrato il primo tempo contro la Lazio faremo una brutta figura. Io credo che dipenda molto da noi perché se noi facciamo al massimo le cose che sappiamo fare possiamo mettere in difficoltà anche la Juventus come poi l'abbiamo messa quando poi l'abbiamo incontrata tutte le volte.